Resistenza Teatro presenta la rivista culturale Siamo Tutti Bloggati, speciale Tretris a teatro. E vado quindi brevemente a spiegare la trama Ok ok, adesso ve la spiego io la trama Allora, Ottavio ama Dolores Dolores non ama più Ottavio e pensa a Matteo Matteo odia Ottavio ma ama Silvia Silvia è innamorata dell'idea di avere tutto per sé Ringo Ringo che è un nome che potrebbe essere associato a quello di un cane ma un cane non è ama il suo cane Gennaro che ha un nome che potrebbe essere associato più ad un uomo ma un uomo non è Queste crocchette che gli compra Matteo E vabbè insomma il resto ve lo vedete a teatro va bene?